Ed eccoci qua, finalmente arrivati alla conclusione. L'altro giorno ho girato tutta una serie di video immersa nella neve e nella tempesta che ha avvolto la mia città, Bergamo. E in questi video spiegavo quali sono i tool che noi utilizziamo all'interno del team per poter lavorare a distanza. Poi ho preso un aereo e oggi mi trovo qua, in riva all'oceano, con temperature decisamente diverse. E sto girando questo video semplicemente per spiegare che questa è la realtà. Non è semplicemente un modo di dire. Essere degli smart worker oppure dei nomadi digitali, avere a che fare con le tecnologie, ti permette anche di far questo. Perché io sto lavorando, beh un po' sono anche in vacanza, ammetto. Infatti fino alle due e mezza di stamattina ero davanti al mio Mac per poter concludere il piano editoriale del team e anche per consegnare dei documenti ad un cliente. Ma quello che volevo dire in questo video è semplicemente che non importa quello che tu decida di fare nella vita. L'importante è che tu scelga qualche cosa che ti permetta di essere nel posto che tu preferisci ma soprattutto di essere felice. Grazie. Grazie. Grazie.